Procediamo adesso con i premi che ancora sono stati decisi e assegnati dal Consiglio dell'Unione Sportiva Sedinarese. Da diversi anni c'è un premio intitolato all'Unione Sportiva Sedinarese che si chiama Premio Speciale US Sedinarese. Sembra una favola, ma non è così. A 18 anni gioca nella formola di Verano-Bianza per passare poi all'orgione, squadra di promozione dove rimane due anni, per essere cento poi alla Caratese, dove gioca per altri due stagioni e sei lì. E dove gioca poi una Michele, molto fortunata, contro l'Aumentus, in pressione trapp, che lo fa prendere dalla società bianconera. E da lì è un susseguirsi di successi con l'Aumentus. Tre studenti, due Coppa Italia, due Supercoppa italiane, una Coppa UEFA, una Coppa Campioni, una Supercoppa UEFA. Gioca nella Juventus, poi nella Fiorentina, nell'Espagnol e termina la carriera dell'Arezzo, in Serie B. Noi diciamo anche che di questa persona ci siamo, abbiamo avuto la fortuna di averla anche noi, per un anno, alla nostra scuola a calcio a calcio. Ed è una cosa che ci viene di orgoglio, anche perché è un nuovo eccezionale. Moreno, dottor Priccelli! Grazie. 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 Grazie.